E anche la puntata di Natale è arrivata in fondo! E allora noi vi salutiamo con un racconto di Natale C'era una volta una cantante talmente famosa che ogni 2 o 3 anni qualcuno la dava per finita E poi pubblicò un nuovo disco e quando le dissero che era tornata la numero 1 in tutto il mondo Lei cosa fece? Si chiuse in casa, si versò due bicchieri di champagne Cosa che non faceva mai perché è sempre stata molto salutata E poi si mise a piangere dalla felicità È successo davvero a Madonna numero 1 per la quinta settimana consecutiva con Hang Up Ci vediamo sabato prossimo 13.30 Una puntata speciale di Top of the Box dedicata ai Top 40 del 2005 Ciao a tutti! Buon Natale, Buon Natale! Auguri! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Don't cry for me Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.